Il naufragio del Bayesian nelle acque di Porticello a Palermo ha messo ancora una volta in evidenza come sia indispensabile investire sul soccorso tecnico-urgente e sugli specialisti dei vigili del fuoco. In questo caso parliamo degli specialisti sommostratori e della sezione navale che hanno fatto un lavoro veramente abnorme. Ricordiamo che negli anni questa organizzazione sindacale ha denunciato più volte come in Sicilia c'è necessità di avere due nuclei sommostratori completi e di avere delle sezioni navale con ripristino dell'organico perché stanno andando in via di esaurimento e di estinzione. Si rischia di non avere più un soccorso tecnico-urgente in mare, questo è quello che sta accadendo. Ad esempio il nucleo di Catania e quello di Sassari rimangono ancora in osservazione, doveva essere un anno e siamo arrivati a dieci anni. Sono passati di categoria ma senza organico, sono veramente un sacco vuoto. Noi chiediamo all'amministrazione e alla politica di investire sul soccorso tecnico-urgente dei vigili del fuoco perché siamo stanchi di ricevere pacche sulle spalle e di essere ridimenticati all'indomani. Ricordiamo che i sommozzatori e i navali, oltre alle squadre delle sezioni generiche, quotidianamente operano in queste condizioni. Ricordiamo già interventi simili come la Costa Concordia, come il recupero nelle acque di Lampedusa, purtroppo dei naufragati. I vigili del fuoco quotidianamente operano e fanno questa tipologia di interventi. Tanto non è una novità, che facciamo immersioni simili, che si facciano degli interventi simili. Vogliamo rispetto e tutela per una categoria che è veramente martoriata, osannata e poi dimenticata.